Siamo qui a Marcallo con Casone davanti al Comune. Te come ti chiami? Io mi chiamo Piroli Massimiliano, ho 43 anni, sono invalido civile dal 2004. Non ho un lavoro. Qui c'è tutta la tua roba, tutto quello che hai. Questa è tutta la roba che ho. Questo è il verbale che mi ha rilasciato l'Inps, che dichiara che io sono invalido e non posso lavorare. Ho un'invalidità al 76%, aspetto uno straccio di posto di lavoro dal 2006 e sono ancora senza lavoro. Nell'ultimo anno cosa è successo? Nell'ultimo anno io purtroppo ho perso i genitori, sono rimasto da solo e percependo una pensione di 280 euro al mese non ho più potuto mantenermi una casa. Ho fatto fatica a mangiare, ho fatto fatica a curarmi, a comprarmi le medicine, fino a che sono finito. Grazie al cielo, a Magenta c'è una casa di accoglienza dove ci sono persone eccezionali, che hanno una carità cristiana che va al di là di ogni... che non c'è prete e suora al mondo. L'accoglienza che ho trovato lì non l'ho trovata da nessuna parte. Mi hanno rimesso a nuovo, a lucido. Oggi sono una persona lavata, pulita, profumata, che si cura e ho messo 12 chili. E ho messo su, mi hanno dato anche da mangiare. Però adesso... Mi hanno dato del vestiario, mi hanno rimesso... Oggi posso dire di essere un cristiano. Serio. Serio. Però oggi aspetto risposte da questi signori qua, del comune di Marcallo. Grazie a tutti.